che m'è sta battuta Tugnoli attacca Marras e riconquista il pallone che arriva poi a Poletto in seguito a uno scarico Poletto punta l'area Poletto verso il fondo pallone dentro con le ca di testa ed è subito l'1-0 Gigi la zampata del giaguaro dopo poco meno di un quarto d'ora che poi ti invantaggio al pavia bella azione qua Poletto ha usato tutte le sue caratteristiche, tutto il suo fisico per superare l'avversario Codecca di testa a vuoto pallone poi ribattuto verso il centro attenzione qua l'occasione buona e c'è il gol Gigi il gol del suplano 1-1 il gol di Iscano questo qua del suplano lo recupera facile Cozzani Longoni per Poletto allarga su Zella può andare un cross che parte è gol è gol Gigi gol di Eugenia 2-1 su un cross oddio Filippo che sembrava destinato a uscire pensavo fosse fuori mamma mia pensavo fosse un cross destinato a qualcuno invece vabbè gran gol incredibile signori gol imprendibile gol imprendibile 2-1 gol imprendibile rimessa Pavia battuta su Longoni poi Tugnoli direttamente al cross diventa buono per Zella in area che se l'aggiusta bene in attesa di un contro cross la zampata del Jaguaro al 43esimo minuto ed è 3-1 e D ci ha provato ci ha provato ci ha provato velo Zella butta palla in mezzo e Codeca deve appoggiare con tutta la sua forza Cozzani che ha davanti l'ultimo difensore ha davanti al numero 47 il numero 18 può anche andare da Grumelli invece verso un cross Zecchino 4-1 la Volpe 49esimo minuto la Volpe signori la Volpe il gol della Volpe pensavo potesse andare uno schema perché c'era Grumelli solissima Zella pallone per Avallone ancora Avallone sullo scambio con Codeca Longoni di prima verso Accoliti bella l'azione costruita Zecchino allarga tutto bene verso Grumelli che è solissima può andare al cross e così è con il mancino dentro per Codeca 5-1 su bellissimo assist di Giulia Grumelli qua c'è stata un'azione che è stupenda perché Grumelli vista sola sul lato di sinistra ha controllato molto bene il pallone ha buttato palla in area Zecchino il pallone largo verso Mazza è buono dentro l'area può andare al cross Codeca il gol che vale il 6-1 la zampata del Jaguaro al 27esimo minuto di corpo poi pallone che attraversa tutto il campo Mazza con il fisico riesce a prendersi questo pallone a campo davanti a Sepp può puntare in velocità preferisce invece andare da Grumelli che con una finta si libera e calza Grumelli la mattonella dalla mattonella al 35esimo minuto e voleva questo gol l'ha cercato per tutta la partita grandissimo gol Gigi gran gol ha angolato molto molto bene Filippo perché comunque il sinistro di Grumelli è molto pericoloso una mattonella dalla mattonella pallone di Zella alla parata di su giù poi Zanetti tiene vivo il pallone intercettato ancora Zanetti il tiro c'è spazio per il colmo Zanetti ci ha provato ci ha provato niente da fare ci ha provato Marina Zanetti vale l'otto a uno no